Ciao sono Emiliano Galli dell'Agenzia Immobiliare Remax Italcase, oggi mi trovo in zona Torre Vecchia in via Vincenzo via Ratericci e al Cipico 9 e ti presento l'appartamento Biciu, è un appartamento che è stato completamente ristrutturato nel 2022 e da zero, certificati anche gli impianti elettrico ed idraulico, quindi tutto quanto nuovo con finestre in PVC doppio vetro, serrande elettriche, zanzarere, inferriate, porta blindata e ovviamente studiata nei minimi particolari. C'è un soggiorno che abbiamo visto poco fa, questa è la camera da letto che è essenziale ma c'è tutto quanto, anche una bella finestra e tutto questo armadio a muro fatto su misura che ovviamente rimane nell'appartamento. Questa è la zona al giorno, come vedete è ben divisa e strutturata con una zona angolo cottura sulla destra e studiata nei minimi particolari perché anche qui questo lavandino si può tirare giù per aprire la finestra, quindi è veramente stato studiato anche qui e un altro armadio a muro nell'ingresso, abbastanza capiente. Zona TV e poi c'è questa struttura in cartongesso che divide la visione insomma del bagno, che è un bagno cieco con areatore però e abbastanza comodo dove c'entra un po' tutto. Ecco qui e poi un altro dei punti di forza senza dubbio è tutto lo spazio esterno, eccolo qui, abbastanza capiente con anche una casetta per gli attrezzi. Caldaia esterna anche questa nuova della Rinnai messa nel 2022 per l'acqua calda sanitaria e riscaldamento è centralizzato. Un altro aspetto positivo è senza dubbio la spesa condominiale che sono solo di 30 euro al mese compresa l'acqua. E quindi facendo un piccolo ripilgo ci troviamo di De Vincenzo Viare dei Ricci, piano rialzato, un contesto tranquillo e riservato, palazzina e portina, un appartamento completamente ristrutturato. Per qualsiasi informazione in più e per visitare la casa non esitare a contattarmi. Per vendere casa puoi fare tu le foto, mettendoci tutto te stesso. Ma con un agente Remax? Eccoci, come va? Hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!